che come avete sentito è stato di particolare significato per noi che ci abbiamo lavorato. Sono stati numeri già proiettati, 450 milioni ed oltre di investimento, in termini di efficienza il 56%, stiamo parlando delle macchine migliori che esistono sul mercato. Sottolineo, quello che mi si è parlato di Pion Italia, ha ricordato prima e me purtroppo che è un tema col quale ci dovremmo confrontare, nel senso che la rete in Calabria ha problemi gravi per disfacciare le centrali esistenti a questo proposito. Un occhio, questo mi rivolgo anche alle istituzioni regionali, esistono altri progetti, noi auspichiamo, può sembrare paradossale, ma è evidente che l'ulteriore realizzazione di impianti a carbone su questo territorio pregiudicherebbe di fatto tutto il lavoro che qui è stato fatto. Dal punto di vista della sicurezza non userò numeri perché con lavori in corso direi che non è il caso e non abbiamo da vantarci di nulla di particolare perché questo è un'attenzione permanente che non finirà mai percorso nel corso di tutta l'opera di tutta la vita della centrale che dovrà durare 25 anni. Noi abbiamo registrato indici di gravità bassissimi e sicuramente possiamo essere ad oggi orgogliosi del lavoro fatto anche da questo punto di vista. Ringrazio per la fiducia che i soci hanno voluto dare a noi che abbiamo lavorato tutti su questo impianto. Non è stato facile, l'avete capito, anche per coloro che conoscono poco questa vicenda, arrivare alla fine, ma ce l'abbiamo fatta. È arrivato pure il vulcano all'ultimo, abbiamo superato pure il vulcano, abbiamo avuto le alluvioni, le colline che ci cascano addosso, abbiamo avuto su questa vicenda indagini penali importanti, la vicenda del consorzio ha segnato la vita anche della nostra centrale, noi siamo andati avanti senza quel tipo di presupposto. Voglio ricordare che qui c'era un consorzio industriale che oggi è in via di una procedura concorzuale, voglio ricordare che noi abbiamo realizzato il medano d'otto, l'acquedotto, abbiamo fatto tutto noi da soli, quando dico noi da soli intendo ovviamente le imprese che hanno realizzato l'impianto, quindi ringrazio Alstom, Tekint e Nemit, qui vorrei citare i nomi e chiederò scusa perché veramente ruberei troppo della pazienza della quale appunto come dicevo prima abbiamo abusato. Vi chiederò scusa se però invece almeno per gli elementi di maggiore orgoglio che credo che facciano parte del territorio, vi chiederò un solo istante di pazienza, vorrei che si alzassero in piedi i ragazzi che dipendono da Ergo Sud. Grazie, la cosa più bella, adesso questo può essere commovente appunto per noi che ci abbiamo anche lavorato, cercheremo di superare questo momento, la cosa più bella è che insieme ai ragazzi, non so se adesso quelli in Repubblico alcuni solo se ne sono accorti, si sono alzati anche due colleghi che hanno una certa età, come dire che non sono dipendenti da Ergo Sud e questo dà il segno della partecipazione che non solo la colonia sarda, ma abbiamo avuto la colonia veneziana, abbiamo avuto una partecipazione veramente emotiva credo e spero che questo si si percepisca e vorrei che restasse anche come un'eredità che noi lasciamo alla giornata di oggi. In sostanza ce l'abbiamo fatta, comincia un lungo viaggio con tante altre difficoltà, tanti ostacoli che con l'aiuto e la fiducia dei soci, con l'aiuto di tutti coloro che oggi fanno parte di questa famiglia e aggiungo e finisco con questo, tutti coloro che nel crotonese ci hanno dato una mano e sono tanti, non soltanto l'associazione industriale, devo chiedere scusa addirittura ora alla Neo, vicepresidente della regione, perché io posso testimoniare di un'attenzione che lei stessa ha messo nell'ultimo periodo e che noi abbiamo avuto qualche difficoltà impegnati magari nella gestione di altri fatti che hanno riguardato la vicenda dell'azienda, ma dico io posso testimoniare di un'attenzione continua del territorio prevalentemente positiva, noi sappiamo che il contesto territoriale propone delle difficoltà, ma a fianco a quelle difficoltà ho detto io vorrei ringraziare tutti i crononesi per l'aiuto che loro ci hanno dato nel realizzare questa centrale e che siano con noi per i prossimi 25 anni. Grazie.